Storia, storia della pallavolo, noi siamo i figli di questa storia, noi spinghiamo la storia, noi siamo figli di questa storia, questa è una celebrazione dello sport, abbiamo visto a Firenze che spettacolo gli si è dato da vivere, da vedere, grandissima partita, grandissima prestazione, grandissimo anche Falpe, quindi quello che è stato anche il percorso di questo risultato, benissimo, allora abbiamo cominciato a giocare e non ce n'è stato per nessuno, abbiamo vinto noi perché, mi dispiace per Toretto perché sono stati bravi, ci hanno messo paura, però più forte ci siamo rimasti noi, vediamo qua. Dopo il terzo set perso abbastanza malucco, quella relazione se ne aspettava la parte della sua squadra, devi reagire, quello che mi ha meravigliato di più è stato anche la continuità del quinto set. No, 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 no. no, 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 il mio profeo della stadione, 14 nella teca e ora il credenzone deve essere ampliato, una parola che lei gli piace molto. guarda il credenzione non c'entra più tieremo l'altro baulle o baullo come diciamo noi a Perugia e lo sovrapperemo a quell'altro in modo che creiamo un po' una gradasta grazie a tutti